buongiorno a tutti benvenuti nella 17esima settimana della salute mentale che comincia proprio oggi ci accompagnerà fino ai primi di ottobre sono ormai diversi anni questa è la 17esima edizione che l'azienda usla di ragioniglia insieme a vari enti associazioni del territorio organizza attività in città in provincia per parlare a 360 gradi di salute mentale oggi è il primo giorno della settimana di programmazione della settimana e anche il primo video sapete che ormai da tre anni abbiamo attivato i canali youtube i canali social della settimana quindi una parte della programmazione anche se molte attività fortunatamente sono ricominciate in presenza anche quest'anno ci accompagnano con questo canale per cui benvenuti benvenuti a tutti e anche ai due relatori che abbiamo con noi oggi abbiamo con noi francesco paolella storico da diversi anni si occupa della storia del palazzaro l'ultima sua fatica letteraria è storie dal manicomio edito per clue uscito proprio quest'anno che racconta proprio una serie di vicende di pazienti che sono passati dal salazzo ricostruite dalle cartelle dagli articoli scientifici ci ci racconterà poi meglio lui quindi benvenuto francesco e benvenuto anche a gando gando maria grassi psichiatra esperto di storia della psichiatria che possiamo dirlo torni un po a casa perché la settimana della salute mentale è un po insomma una tua creatura quindi ci fa piacere che tu torni più volte in occasione proprio del del programma per in questo caso per chiacchierare con noi del libro di francesco ma poi sarai presente anche in altri enti ricordo anche che giovedì ricominciano le dirette di storicamente quindi torniamo sul canale youtube facebook e della biblioteca libri io vi ringrazio per essere qui con noi per parlare appunto del libro di francesco e lascio la parola a voi per aiutarci a capire di che cosa parla questo testo e perché l'istoria del san nazzaro sono utili ancora oggi grazie chiara si mi fa sempre molto piacere partecipare alla settimana della salute mentale naturalmente non creatura mia ma di opera collettiva veramente di tante tante persone in tutti questi anni il fatto che sia la diciassettesima edizione conferma che sono tante le persone sono dedicate allora e oggi mi fa sono contento di di presentare il libro di di francesco paolella come dicevi storico e anche redattore della rivista sperimentale di fregnatria a sua volta storica rivista ehm per chi ma penso che molti conoscano alcuni aspetti anche per sommi capi la storia di san lazaro partiamo dal dal san lazaro quindi partiamo da un'istituzione molto importante non solo per la nostra città ma molto importante per la psichiatria italiana in particolare negli anni di fine ottocento ed inizio novecento quando il san lazaro sotto la direzione in particolare tamburini era assolutamente una delle delle realtà della psichiatria italiana allora fregnatria si chiamava ma delle realtà più importanti ecco francesco paolella ci ci presenta nel suo libro eh un francesco come dicevi ha già scritto eh ha già collaborato a diversi testi sulla storia di storia della psichiatria e in particolare conosce molto bene l'archivio del del san lazaro proprio perché non è la prima pubblicazione eh di questo tipo questa è una pubblicazione si tratta di un libro molto agile nella lettura accattivante anche ma che eh che poi stimola anche molte riflessioni riflessioni sicuramente sul per quel perché permette di comprendere qualcosa dell'istituzione san lazaro di una volta anche degli scambi interistituzionali dietro no sullo sfondo della delle delle storie dei pazienti ma soprattutto è un libro che ci restituisce eh appunto l'umanità ci restituisce la 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 vivacità delle vite che in qualche modo si contrapponevano o in qualche modo dovevano convivere con un'istituzione come quella dell'ospedale psichiatrico ecco francesco riesce è riuscito a mio avviso a a rendere questo ma allora partiamo però dal dal partiamo dall'inizio e chiedevo chiedevo a a francesco come nata in primo luogo l'idea no di questo libro di questo libro eh con le biografie alcune veramente molto molto interessanti di alcuni eh fra i tantissimi eh ricoverati in san lazaro sì eh innanzitutto grazie per l'invito eh è un problema diciamo così una domanda solo apparentemente introduttiva perché andiamo invece proprio già subito un po' al cuore del di quello che ho cercato di fare insomma di questo lavoro anche eh di ricerca diciamo che questo libro nasce da una collezione nel senso che negli ultimi 15 anni come dicevi anche tu mi sono occupato continuo a occuparmi della storia del san lazaro e dell'archivio clinico in particolare e quindi ho iniziato ad accumulare cartelle storie di vita storie di internati eh a un certo momento ho pensato di metterla insieme ora eh questa operazione da un certo punto di vista è molto banale molto semplice no uno potrebbe pensare beh hai voluto fare la solita galleria di tipi strani che si mettono eh insomma come si faceva soprattutto una volta eh invece ho provato a a riassumere attraverso queste biografie scelte diciamo così quasi per caso nel senso che sono come emerse per ognuna per un motivo diverso fra le tante che avevo appunto conosciuto in questi anni ho provato a fare a fare che cosa a mettere un po' alla prova le mie prima di tutto le mie conoscenze su un'istituzione così importante così incombente come San Lazzaro e in che senso metterla alla prova nel senso di vedere se la storia dell'istituzione la storia della psichiatria così come la la conosciamo come molti di quelli che ci ascolteranno conoscono possono studiare eh diciamo così funzionasse eh per mettere diciamo così per verificare sui casi concreti sulle singole storie come funzionasse come eh andasse avanti questo meccanismo fatto appunto di internamento di diagnosi di cura tentativi di cura eccetera eccetera non si tratta neanche in senso stretto di biografie nel senso che partendo dai dati delle cartelle cliniche laddove è stato possibile cercato un po' come eh i cerchi nello stagno no di allargare il campo e quindi di collegare le informazioni che si potevano ricavare tale archivio da questo archivio con altri archivi informazioni di altri tipi di istituzioni dai tribunali eh gli archivi militari l'anagrafe dei comuni eccetera eccetera e quindi qual era qual è stato l'obiettivo? Quello di far emergere tante le diverse singolarità cioè non tanto costruire una biografia quindi arrivare alla cioè realizzare una la verità di una vita diciamo così di un'esistenza ma semplicemente vedere provare a collocare l'internamento con quello che ha significato in termini di sofferenza di abbandono eh di frustrazione di rabbia eccetera 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 di una persona nella sua vita nel passato e nel futuro della sua esistenza e quindi da questo punto di vista l'obiettivo è un po' quello di eh non eh confinare il malato alla sua malattia nella sua malattia eh ancora di più quindi non ho fatto una storia di San Lazzaro non ho fatto una storia di diagnosi ovviamente la questione della diagnosi che si trattasse di un'isteria la paranoia insomma di tutte quelle quei termini anche che chi ha seguito chi si incontri anche le attività online della biblioteca ormai conosce eh sono importanti ovviamente perché rappresentavano un po' erano il marchio in un certo qual modo comunque pesavano molto sul destino di una persona ma non il mio obiettivo è stato quello di non vincolare la ancora come dicevo prima la quella esistenza quel profilo quelle tracce di vita alla diagnosi alla malattia e e quindi cosa emerge da questo lavoro da un lavoro che è ancora in divenire ovviamente perché ci troviamo di fronte a un archivio immenso una vera miniera che non non si ancora non conosciamo completamente nel senso di non possiamo sapere che cosa c'è dietro l'angolo perché ogni storia evidentemente a sé ho cercato di mettere un po' di mettere un po' in gioco gli elementi che caratterizzano da sempre un po' anche l'idea che la riceve i ricercatori la storiografia dei degli internamenti manicomiali soprattutto quelle dell'età d'oro dei manicomi e quindi l'equazione ad esempio manicomio marginalità povertà sono dati come elementi devianza no come elementi essenziali però invece poi vedremo se mai dei casi particolari ogni davvero ogni storia a sé va valutata per quello che è insomma per quello che può rappresentare e quindi bisogna sempre e questo lo sforzo secondo me più importante più interessante recuperare come quello che si chiamano il significato sociale della malattia nel senso di considerare che il peso che la malattia la malattia mentale ha sulla vita delle persone e però anche vedere in che modo le persone nel loro contesto e con le loro forze reagiscono a alla malattia si è detto come hai detto la tua ricerca è andata anche al di fuori dell'archivio del san lazaro anche per cercare informazioni su pazienti che potevano essere stati dimessi o comunque anche da altre fonti perché ciò che riguarda la fonte però principale naturalmente sono le cartelle cliniche e i cartelle cliniche e ti chiedevo se sono come dire oggi noi abbiamo presente una cartella clinica ospedaliera odierna ma quelle dell'epoca erano diverse e contenevano anche tante altre informazioni una cosa fra queste informazioni una cosa che mi ha interessato molto erano proprio quelle di prima mano del dei pazienti ricoverati no cioè lettere di dei pazienti ricoverati ecco ti chiedevo anche anche questo cioè il perché scrivevano che cosa scrivevano che cosa era la perché mettevano su carta i loro pensieri quelli che sapevano scrivere perché giustamente come dice anche nell'introduzione del libro teniamo presente che san lazaro come tutti i manicomi aveva delle classi aveva delle classi di ricovero che coincidevano con le classi sociali chiaramente solo non tutti erano erano alfabetizzati naturalmente certo sicuramente gli autografi dei malati in alcuni casi anche delle vere o dei tentativi comunque di autobiografia sono fra le fra i documenti delle cartelle quelle che colpiscono di più anzitutto quando chi prende in mano i documenti anche questo è un tema molto complesso diciamo che io cerco sempre di ricordarmi una cosa prima di tutto che le cartelle cliniche esistono e quindi noi conosciamo queste storie queste queste esistenze e anche quelle la loro verità diciamo così perché perché c'è stato un ricovero perché c'era il manicomio ora quindi bisogna da una parte considerarle come fonti di assoluto valore perché riescono in molti casi pensiamo appunto al alle lettere che i malati scrivevano ai medico al direttore o ai familiari eccetera eccetera riescono a darci l'altro punto di vista diciamo così a creare un antagonismo però non dobbiamo neanche cadere nell'estremo opposto di pensare che in quelle in quelle scritture in quelle autobiografie ci sia la verità di una vita ovviamente si tratta sempre di scritti che sono come mi chiedevi che sono finalizzati alla vita del manicomio ad uscire dal manicomio poi penso che il testo il tipo di scrittura diciamo così o comunque di testo più frequente siano delle petizioni per ottenere la liberazione per chiedere ai parenti di venire venire a prendere il malato eccetera ma e dunque per rispondere alla tua domanda perché si scriveva anzitutto per lo dico proprio dal mio piccolo punto di vista per mantenere un collegamento con la vita esterna perché in un contesto di diciamo così ovviamente chiuso come il manicomio non c'è altra non c'erano allora altre possibilità e quindi tenere un collegamento con la vita esterna sia questo in rapporto al futuro nel senso di dire appunto voglio non vi dimenticate di me voglio riconquistare la mia libertà sono sano eccetera eccetera ma anche rispetto al proprio passato quindi riconfermare la propria identità questo soprattutto negli scritti autobiografici che in diversi casi erano sollecitati dagli stessi medici e quindi possiamo considerarli un po come un prolungamento degli interrogatori che si svolgevano soprattutto all'inizio di un di un ricovero c'è appunto questo la scrittura veniva serviva per dire io sono questo in questo momento di smarrimento di neutralizzazione diciamo così la mia identità in realtà io sono stato questo sono questo in terzo luogo che cosa perché si scriveva perché i malati avevano questo bisogno di scrivere anche per giustificarsi per giustificarsi nel senso di giustificare la propria condotta che semmai le aveva portate appunto al san lazzaro diciamo che in generale la scrittura gli autografi nelle cartelle è una davvero una miniera di informazioni per la storia sociale per la storia culturale per la storia linguistica sono di difficile decifrazione in molti casi anche perché appunto come dicevi tu molte volte erano persone appena alfabetizzate che provavano a scrivere quindi è anche difficile la grafia insomma come anche quella dei medici e dobbiamo dire però nonostante questo soffermarsi sulle autobiografie dei malati rappresenta una diciamo sull'autografia sulle lettere sulla loro scrittura rappresenta davvero una penso la una fonte più diciamo così più più promettente nel libro mi è capitato un caso particolare che cito volentieri che quello di non so se ne ce ne occuperemo ancora dopo di arminio che un caso diciamo così apparentemente banale cioè di un ragazzo è stato ricordato qui veniva del friuli se non ricordo male e nella sua cartella che cosa ho trovato ho trovato ho trovato un articolo pubblicato meglio non un articolo un suo racconto pubblicato sulla gazzetta letteraria e in quel racconto che di per sé non è bellissimo diciamo che è praticamente la prima e unica o quasi cosa che questo ragazzo che aveva desiderio di scrivere evidentemente che questo ragazzo pubblicato troviamo una storia che sembra in un certo qual modo anticipare la sua vita c'è una vita fatta di abbandono di solitudine di disperazione ed è secondo me molto molto significativo perché sembra davvero quasi di trovare avanti una specie di autoprofezia che poi si è si è avverata questo è un caso estremo però diciamo che le in generale nelle nelle tre documenti delle cartelle c'è proprio dagli iscritti ricoverati escono proprio questi desideri questi bisogni a volte davvero così forti impellenti ecco grazie pensavo che il tema della settimana della salute mentale di quest'anno è l'identità e parliamo di una psichiatria che in quegli anni era alla ricerca di un'identità non fosse ancora adesso ma comunque in quegli anni cercava di definire la sua la sua identità e la sua funzione sociale peraltro le cartelle oggetto del tuo studio si riferiscono agli anni dagli anni settanta quando iniziò la la tenuta delle cartelle cliniche in san lazaro e alla agli anni fino agli anni 40 50 quando diciamo per il rispetto della privacy fino al tempo in cui si può si può appunto esaminare le cartelle cliniche da questo punto di vista c'è un caso che è interessato molto e che è il caso di adele che perché mentre in quegli anni già appunto il lavoro dello psichiatra consisteva nel definire noi quella definizione di confine fra la salute e la malattia soprattutto in ambito ad esempio criminologico sono gli anni di antropologia criminale sono gli anni ma diciamo gli psichiatri diciamo ci tenevano parecchio a a far sì che gli venisse chiesto un parere e che il loro parere scientifico potesse dare una patente di normalità normalità in questo caso di adele di cui ti chiedevo di dirci qualcosa era ancora più delicato perché non si trattava di di realtà o di delirio si trattava di di distinguere fra visioni mistiche e quindi un aspetto che chiamava in ballo nell'italia laica di fine ottocento ma aspetti comunque di credenza religioso di credenza popolare e invece la malattia e quindi un confine ancora più difficile ancora più delicato perché chiedevo appunto di inquadrare un po questo caso e anche magari appunto la il ruolo no delle psichiatri all'epoca sì la storia di adele sicuramente posso dire che quella più evocativa rispetto a quelle che ho trovato nel senso che si inserisce proprio in un momento in cui la psichiatria come dicevamo e sta cercando di ritagliarsi un ruolo ideologico sociale confrontandosi con un diciamo quello che poteva essere o che sarebbe potuto essere un suo antagonista cioè la chiesa e la storia di adele di per sé molto semplice una ragazzina una bambina che in un una zona in un posto vicino a castelnuovo monti e dice di vedere una figura che viene subito riconosciuta diciamo così dal popolo dagli altri come la madonna e per questa visione per queste visioni finisce in manicomio in osservazione perché finisce viene inviata direttamente dalla prefettura ma per ragioni diciamo così non tanto per per stabilire l'origine di queste visioni diciamo che all'autorità politica non interessava tanto quello perché non era questione interessava che il caso da su su in montagna la nostra penina non si sgonfiasse e quindi tenerla lontana e in un posto dove poteva essere diciamo così tenuta a bada anche dal punto di vista delle appunto delle conseguenze era quello che importava adele infatti viene inviata mi ricordo proprio il documento con cui la prefettura invia chiede a a san lazaro di occuparsi del suo caso viene definita immediatamente come piccola isterica quindi non era nemmeno più da discutere dell'origine di quelle di queste visioni di queste allucinazioni è importante questa storia perché appunto la psichiatria come dicevo all'inizio cerca di rendersi protagonista anche nel dibattito culturale scientifico e politico e lo fa diciamo facendo che cosa individuando una sfera di competenza quindi ciò che fino nei secoli bui diciamo anche più recentemente insomma era stato di dominio della chiesa della religione dei teologi cioè tutto ciò che non che non è visibile che non è naturale eccetera eccetera deve essere ricondotto neutralizzato e ricondotto al campo della 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 materia insomma delle delle forze organiche ecco non dobbiamo però credere che psichiatria fosse fatta tutta di spietati anticlericali no fra l'altro è uscito proprio in questi giorni un libro di cui se mai avremo occasione ancora di parlare no edito da unicopi di gabriele piretti che si occupa proprio se non ricordo male se non ricordo male il santo in manicomio che è molto interessante perché pone anche la storia di adele nel su cui è stato scritto anche sulla nostra rivista di freniatria no nel nel campo più ampio di questo dibattito e ciò che emerge che appunto la psichiatria da una parte sicuramente si sentiva investita da un compito quello di combattere le forze più retrograde oscurantiste eccetera eccetera il nome della scienza positiva dall'altra parte però anche all'interno del campo psichiatrico esistevano visioni diverse idee diverse ad esempio un dibattito che non riguarda specificamente il caso di adele ma che si potrebbe si potrebbe inserire anche nel nostro diciamo così in questa storia era sul fatto che ok le visioni non sono sovranaturali ok che la diciamo tutto quello che viene fuori da queste realtà da queste storie è il frutto di superstizione eccetera eccetera ma non per forza si deve trattare di fenomeni patologici ultima cosa che mi interessa sottolineare che nella storia di adele esce benissimo è il fatto che il vero protagonista o il terzo protagonista oltre alla ragazzina agli psichiatri eccetera è invece proprio il popolo il popolino sulla cui credenza sulla cui facilità a credere gli psichiatri si diciamo così si concentrano soprattutto ciò che ciò che temevano era che ancora queste forme di religiosità così invadente così semplice così naif diciamo così avessero così facile presa sulle persone che bastasse una voce che si rincorre di una bambina che sembra che abbia visto eccetera per creare dei fenomeni che comunque preoccupavano perché subito scatenavano pellegrinaggi offerte e tutto quanto poi avviene in questi casi certo c'è un altro dei casi che se non sbaglio riguardi il libro del comando che a proposito di di quanto no la suggestione la credulità potesse poi innescare fenomeni di questo tipo è abbastanza esemplificativo ed è un altro dei casi del libro invece un'altra un'altra delle protagoniste del delle tue storie appunto è dorina e dorina e ci rimanda a una ha invece una funzione molto chiara del manicomio ed è sostanzialmente la funzione di controllo sociale su comportamenti che diciamo hanno a che fare possono avere a che fare con la psichiatria ma che poi trovavano nel manicomio una una risposta non dimentichiamo che nel 1904 la legge giolitti definirà proprio l'internamento per per le persone per i malati psichici eh se di eh si risultavano quando risultavano di pericolosi per sé per gli altri di pubblico scandalo e nel tuo testo ci sono diverse situazioni di di scandalo no comunque nelle quali eh molto molto semplicemente molto evidentemente no un figlio di un senatore della repubblica un sacerdote insomma quindi lo scandalo può essere legato anche alla alla ruolo sociale del del paziente della sua famiglia eh ecco ti chiedevo del caso di dorini perché poi è una storia che dura tanto no e che non ha peraltro la sua il suo epilogo in manicomio a differenza di tante storie nelle quali il manicomio comunque è poi il il contenitore finale per conto della società della della follia in alcuni casi o della devianza in questo caso invece d'orina poi ha una storia non certo serena ma ma fuori anche sì eh una storia che per diciamo così in estrema sintesi poi spiego anche perché eh mi ha fatto pensare subito quando l'ho conosciuta proprio al piano inclinato c'è una ragazzina una bambina che nasce in una famiglia problematica eh dove ci sono padre alcolista sono quindi comunque con tanti fratelli una famiglia con tanti problemi che finisce eh a San Lazzaro molto presto eh viene viene inserita qui nella colonia scuola al marro cioè diciamo così per cercare di recuperare un po' eh soprattutto dal punto di vista della condotta no caratteriale come si dice c'è una prima c'è una liberazione eh e poi l'orina inizia a fare dentro e fuori dalle tante istituzioni ancora il manicomio le prigioni finisce anche in manicomio criminale e perché perché appunto come dicevo la sua vita è segnata da prima dei furti e poi la prostituzione clandestina e poi un tentativo di omicidio quindi è sempre e queste diciamo tutte queste entrate uscite in carcere eccetera fanno proprio pensare ad un ad un destino segnato e come queste istituzioni fossero nonostante i tentativi fossero di anche di emendazione come si diceva una volta no fossero eh diciamo nonostante questi tentativi alla fine per dodina non ci fossero che l'internamento non ci fosse che la reclusione proprio perché diciamo così la queste sue esuberanze che finirono anche per farla diventare un piccolo personaggio buono per la stampa locale no diventata la bella Dorina nel senso che era evidentemente eh poi conosciuta chi seguiva le cronache delle preture dei tribunali eh insomma non 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 c'è non c'è stato modo di di prenderla in carico come si dice diversamente in quel contesto evidentemente eh aveva anche senso così nel senso che appunto la legge la legge giolitti parla espressamente di pubblico scandalo e la sua vita è stata proprio segnata da una continua da un continuo scandalo indubbiamente e ed ecco l'ultima cosa secondo me interessante che anche ha proprio legato a questo che la storia di Dorina ripropone bene questa antinomia di cui abbiamo parlato tante volte perché è fondante dell'istituzione come manicomio per non dire quelli dei manicomi criminali no l'antinomia fra cura e custodia anche a rileggere la sua cartella clinica questa doppia questa tensione diciamo questi due poli mettendoci anche a fianco la 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 parte pedagogica negli anni di internamento del marro è è molto forte e quindi evidentemente questa contraddizione non diciamo così nel suo caso si vede bene che non poteva essere risolta certo come peraltro credo il manicomio non risolvesse anche in tanti casi soprattutto quando la la funzione di controllo sociale di custodia era così marcata ti chiedevo un'ultima cosa il libro è sono storie storie di persone e quindi la ogni ogni singola persona emerge emerge in modo molto netto molto distinto però i protagonisti i protagonisti sono due in realtà la persona ma anche l'istituzione manicomio quello che è dietro no è dietro la sua il suo ricovero la sua istituzionalizzazione franco basaglia diceva che il manicomio era un luogo costruito per il completo annientamento dell'individualità come luogo di totale oggettivazione dei pazienti e sappiamo che è stato anche coniato il termine una diagnosi no fra le tante diagnosi ne mancava una quindi la diagnosi di sindrome da istituzionalizzazione perché di fatto era un agente poi patogeno evidentemente il manicomio stesso ecco ti chiedevo in fondo in questa no come vedi anche in fondo queste storie alla luce di questo un po di questa contrapposizione in fondo erano storie dalle quali traspare una chi le legge sente no il l'individualità sente l'individuo che riesce a in qualche modo a mantenere una sua una sua identità ma forse non era nemmeno la non era nemmeno nella maggior parte di casi che questo avveniva ecco non ti dico chi se da queste storie traspare no una una capacità di queste persone di di resistere in qualche modo no all'omologazione oppure no ma una riflessione un po su questo cioè in qualche modo che cosa ci raccontano un po di questa che è una un confronto di questo che era una penso una lotta quotidiana in individui che per riuscire a mantenersi vivi e individui e quindi e quindi con una loro singolarità dovevano appunto lottare penso senza come dicevi tu prima prendere seriamente le parti non viene nel leggere il libro verbo spontaneo prendere le parti del del paziente ma vedendo la cosa da un punto di vista storico appunto si è una questione centrale nel senso che noi ci troviamo di fronte a queste storie di fronte a delle eccezioni c'è tutto perché sono state selezionate in un modo in un altro perché sono hanno avuto la possibilità di emergere hanno diciamo così su di loro sono state accumulate delle informazioni perché altrimenti non avrei potuto fare niente d'altra parte ecco queste persone che in un modo che in un altro ha tentato di resistere a questa a questo annientamento di cui dicevi di cui dicevi prima ha tentato però non sarei molto ottimista diciamo così da questo punto di vista perché si tratta comunque di una perdita c'è l'internamento di per sé in un'istituzione come questa segna comunque una appunto una perdita rispetto a ciò che a ciò che quell'esistenza avrebbero potuto avrebbero potuto avrebbero potuto essere e dunque questo schiacciamento no della dell'individualità pesa moltissimo è vero che il vero protagonista anche se rimane è ovviamente il meccanismo di dell'internamento il protagonista del libro è il manicomio con i suoi meccanismi con la sua burocrazia con i suoi ritardi non secondo me altrettanto vero e giusto che non ci troviamo di fronte ad un ad un luogo di torture questo bisogna un po è un pregiudizio che bisogna continuare a sfatare i medici che lavoravano qui davvero pensavano di contribuire a pensavano di aiutare quelle persone ricche o povere che fossero giovani o anziani insomma intellettuali o analfabeti pensavano che il loro ruolo fosse davvero quello di portare a una possibile innanzitutto a evitare guai peggiori diciamo no sennò appunto quello quel mandato di della psichiatria di cui dicevamo prima ma anche appunto attraverso anche proprio questa normalizzazione arrivare ad una possibile guarigione i dati i dati la storia ha detto che evidentemente non era non era così e quindi secondo me la l'importanza ecco di lavori diciamo così o soprattutto di continuare a frequentare gli archivi come questo è proprio quello di continuare a mettere un un po in questione i meccanismi che sono la base della della cura in generale nel senso che bisogna proprio tenere ben presente che attorno e vicino alle persone sofferenti c'è comunque cioè diciamo che le persone che che soffrono sono persone insomma e quindi questo è un po quello che ho provato a fare grazie francesco allora direi possiamo concludere questa questa chiacchierata a proposito di storie dal manicomio come dicevi proprio è la come scrivi anche nel nel tuo libro si tratta di un con dell'irriducibilità dell'essere umano a fronte di una delle istituzioni che nella storia del recente diciamo storia moderna storia dell'uomo ha avuto comunque un peso enorme e che ha anche ancora oggi molti in molti paesi chi lo leggerà troverà delle storie assicura assolutamente affascinanti assolutamente credo interessanti a volte proprio perché appartengono a epoche storiche diverse ma soprattutto troverà invece quello che dicevi cioè delle persone degli individui e le loro storie in confronto nella loro sfida con la società dell'epoca da un lato e con le istituzioni con l'istituzione manicomiale ecco da loro la loro sfida ecco e credo ci è fonte di riflessione ancora oggi proprio perché poi temi con tutte le dovute differenze poi li possiamo ritrovare queste stesse persone in fondo sono persone nelle quali un po' mi dire che si possono riconoscere ecco come 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 esseri umani ancora oggi con i loro bisogni e con le loro risposte alla all'istituzione io ti ringrazio e direi salutiamo chi ci ha chi ci ha ascoltato e rimando a questo punto alle altre iniziative della settimana della salute mentale che si è aperta oggi e che proseguirà nei prossimi giorni arrivederci a tutti grazie